buonasera buonasera a voi come state eccoci ritrovati nella nuova in questa giornata insieme sono contento che voi siete qui o perlomeno le persone che ci saranno e quindi aspettiamo chi si collega e vediamo se ci saranno persone a noi collegate questa sera ancora non vedo nessun nome ancora non vedo nulla vedo solo quattro persone ma nessuno ecco mirella greco ecco buonasera mirella ciao patrizia buonasera buonasera a voi questa sera come sapete è 11 la giornata che noi dedichiamo all'arcangelo michele buonasera silvia buonasera sole azzurra ciao 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 vera quindi alla serata che noi dedichiamo all'arcangelo michele perché appunto c'è la vibrazione numero 11 spesso voi buonasera maria in maria non mi ricordo l'altro nome ma l'è scritto stamattina o non mi ricordo che ciao ciao rosi buonasera letizia e quindi dicevo dedichiamo questa serata all'arcangelo michele che è la nostra guida la guida spirituale la guida del nostro gruppo la mia guida è appunto la guida del gruppo bridges of light di cui io sono il fondatore come ben sapete buonasera stefania buonasera mara quindi questa sera lavoreremo con la sua energia l'energia che ci accompagna oramai da cinque anni sul nostro bellissimo gruppo e dal quale appunto stiamo fortemente tagliando rami secchi e aggiungendo nuove persone nuove nuove entrate quindi sono sicuro che durante l'autunno io durante l'estate lavorerò sul nuovo palinzesto e poi un po alla volta vi presenteremo i nuovi ospiti che faranno parte di questa nostra grande famiglia che appunto bridges of light bridges of light mentre aspettiamo che un po di persone si collegano visto che antonella virzi ciao buonasera antonella ha pubblicato un sondaggio al quale vorrei che tutti quanti rispondeste proprio per chiedere quali potrebbero essere gli argomenti che vi interessano di più rispetto a quelli che già pubblichiamo di cui già noi parliamo ci saranno nuovi argomenti ci saranno degli scrittori che entreranno su bridges of light persone molto importanti persone che hanno scritto dei libri giornalisti quindi stiamo lavorando proprio sul rifacimento di bridges of light con nuove persone buonasera marco buonasera paola ci sono i miei allievi di terzo livello con i quali abbiamo appena terminato un corso online quindi buonasera daniela ciao 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 quindi questa sera non solo lavoreremo ciao navaria non solo lavoreremo con l'arcangelo michele per ancora guarire le ferite del nostro cuore e lavorare appunto affinché lui possa buonasera paola affinché lui possa finalmente lasciare andare tutto ciò di cui abbiamo bisogno di lasciare andare e tornare ad avere il nostro cuore la nostra essenza pulita pura come quando nasciamo e quindi questa sera noi lavoriamo su questo quindi sul guarire delle ferite del cuore con l'arcangelo michele sapete che buonasera angelo ciao rosanna vi ricordate che a natale è uscita proprio la mia meditazione guarisci le ferite del cuore con l'arcangelo michele mentre aspettiamo che un po di persone si collegano mi dite cortesemente da dove ci chiamate da dove ci scrivete da dove ci state guardando ciao chicca buonasera a te ivana ciao buonasera nicoletta buonasera paola biondi buonasera buonasera e oggi ho avuto una bellissima conversazione con paola e che sarà appunto una nuova ospite di bridges of light e quindi di questo siamo veramente molto contenti e orgogliosi e onorati paola è una persona eccezionale ho parlato con lei durante la giornata oggi per ben due volte e quindi sono veramente contento buonasera gigi buonasera antonella buonasera valeria ciao sole azzurra buonasera buonasera carmen buonasera a tutti voi buonasera ecco vedi c'è tutta l'italia dalla sardegna alla puglia alla liguria a lazio con tivoli bene 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 milano ok e quindi questa sera lavoriamo appunto con l'arcangelo michele quindi aspettiamo ancora qualche minuto prima che le persone riescono a collegarsi sapete il martedì sera è una serata diciamo strana per noi perché le mie meditazioni di solito avvengono la domenica sera alle 21 e 30 quando ci sono sempre molte più persone ma questo non importa ci potrebbero essere anche una o due persone le nostre meditazioni sono per tutti non solo e poi vengono comunque ascoltate anche dopo no durante quando avranno indifferita quindi assolutamente ciao katia san buonasera buonasera graziella buonasera a voi e quindi questa sera noi tra un po cominceremo la nostra meditazione e come dico tutte le sere tutte le volte che ci incontriamo vorrei che tutte quante voi verbalizzate con lo scrivere appunto che il modo di verbalizzare in una diretta verbalizzate ciò di cui volete liberarvi questa sera per cui scrivete tutto bene con chiarezza e tutte le cose di cui volete liberarvi questa sera ciao la rena buonasera cristiana io le darò all'arcangelo michele affinché lui possa guarire tutte queste vostre emozioni tutte queste cose buonasera maura buonasera anche a te ciao quindi cominciate a scrivere abbiamo tre minuti poi cominceremo la nostra meditazione alle 21 e 40 quindi vi esorto di scrivere tutto ciò di cui voi volete liberarvi questa sera monica buonasera ciao ciao cecilia buonasera quindi attendiamo i vostri scritti ciao francesca buonasera mentre aspettiamo che voi scrivete diciamo le preghiere che volete dare all'arcangelo michele buonasera olimpia vi esorto appunto di scrivere queste cose e di raccontarvi appunto da dove ci chiamate bisogna essere il momento più specifici e annunziata ti ammali dove e di che cosa tu soffri per cui scriviamolo nello specificamente ok voglio ricordarvi anche che domani sera alle 21 ci sarà un'altra diretta e quindi vi esorto tutte a rimanere concentrate anche domani perché domani ci sarà una diretta con tanti ospiti dove invieremo guarigione a tutte le persone che sono collegate quindi rimanete comunque con noi anche domani sera alle 21 ci sarò io e ci saranno appunto diverse persone che già conoscete e altre che imparerete a conoscere e quindi adesso sono le 21 e 39 ancora abbiamo un minuto per scrivere tutto ciò e ciao giorgio buonasera e quindi poi cominciamo la nostra diretta bene siete arrivati giusto in tempo ok bene allora vorrei tutti quanti voi chiudeste gli occhi adesso per piacere chiudete gli occhi e cominciate a respirare profondamente inspirate ed espirate inspirate ed espirate inspirate profondamente ed espirate inspirate ed espirate e cominciamo ad invocare la presenza dei nostri angeli custodi affinché essi si posizionino uno a sinistra e uno a destra del nostro corpo fisico e quindi sentiamo forte l'energia dei nostri angeli custodi e della loro presenza intorno a noi inspirate ed espirate e piano piano cercate di rilassarvi attraverso la mia voce attraverso ciò che gli angeli ci stanno già portando attraverso l'energia che gli angeli ci donano inspirate ed espirate e lasciate andare le vostre ansie le vostre paure lasciate andare le vostre preoccupazioni e donatele agli angeli custodi chiudete gli occhi e cercate il silenzio dentro voi stessi anche se state in una casa rumorosa immaginate di essere da sole sedute dove regna la pace la beatitudine e l'armonia e cercate in qualche modo di rimanere centrati in questa energia di guarigione mentre i nostri angeli custodi cominciano lentamente ad aprire un portale come un grande portone davanti a voi un grande portale di luce blu e quindi invochiamo affinché gli angeli possano aprire il portale e che questo portale possa spalancarsi davanti a noi e far entrare e far entrare la luce blu meravigliosa dell'arcangelo Michele e noi lo ringraziamo della sua presenza intorno a noi ringraziamo l'arcangelo Michele per essere con noi questa sera a donarci il suo amore e a guarire il nostro cuore dalle ferite antiche ma anche di ferite nuove moderne più rimaniamo centrati in questa energia più l'energia meravigliosa dell'arcangelo Michele ci avvolge con amore con armonia con gioia e mentre siamo in silenzio e sentiamo e percepiamo l'energia degli angeli intorno a noi la presenza forte dell'arcangelo Michele con la sua spada di luce è intorno a noi e sentiamo come adesso la spada di luce dell'arcangelo Michele possa cominciare a tagliare i ganci che sono sul nostro corpo di luce tutti quanti noi abbiamo dei ganci dei cordoni che ci legano a persone cose e situazioni questa sera noi vogliamo fortemente sganciare tutto ciò con la forza la luce l'amore della spada di Michele e per tutte le persone che hanno scritto che hanno dei problemi alle articolazioni come per le gambe alle ginocchia alle anche ai fianchi chiediamo all'arcangelo Michele di cominciare a tagliare a recidere tutti questi ganci che provengono sicuramente da altre persone o da lezioni che abbiamo dovuto imparare nel corso della nostra vita qualcosa che ci ha bloccato qualcosa che è arrivato da qualcun altro tant'è che mentre voi immaginate che l'arcangelo Michele taglia questi ganci avrete davanti a voi dei volti di persone che vi hanno in qualche modo attaccato legato a loro contro la vostra volontà energeticamente parlando ovviamente e quindi chiediamo all'arcangelo Michele di tagliare i cordoni che provengono da queste persone che vi hanno voluto in qualche modo bloccare a livello di gambe di ginocchia di fianchi percepite come un'energia blu che vi avvolge e vi libera da questi cordoni da questi ganci immaginando la spada di luce bianca dell'arcangelo Michele che elimina taglia recide tutto ciò sentiamo come una liberazione le nostre gambe come se le nostre gambe cominciassero a fluire come se cominciassero quasi a volare sentite come questa energia fluisce intorno a voi un'energia blu di guarigione e sentite questa energia avvolgere non solo i vostri piedi e le vostre gambe ma anche i vostri fianchi un'energia un'energia e sentite adesso pian pianino che questa energia di guarigione sale 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 e va a lavorare con la vostra pancia sapete nel chakra del plesso solare nel quale noi adesso lavoriamo è conservata la nostra mente il fulcro della nostra mente si trova nel plesso solare e la nostra mente dice un sacco di bugie e quindi noi chiediamo oggi e fortemente all'arcangelo michele di recidere tutti i cordoni umbilicali che ci hanno bloccato attraverso persone che ci verranno in mente in questo momento quindi chiediamo all'arcangelo michele di recidere tutti questi cordoni questi ganci che non appartengono a noi ma ad un'altra persona o a più persone e lasciamo andare questi ganci anche noi abbiamo i nostri ganci che arrivano e che sono legati ad altre persone per cui mandiamo via i ganci attaccati a noi e ci riprendiamo la meravigliosa energia blu dell'arcangelo michele che recide tutte queste corde tutti questi uncini e quindi chiediamo all'arcangelo michele di recidere i cordoni con le persone cose che e situazioni che ci hanno fatto male al cuore che ci hanno fatto male che ci hanno provocato ansia che ci hanno provocato dispiaceri e da qui arrivano i mal di schiena per esempio quando non possiamo in qualche modo fare a meno di essere flessibili rispetto a certe situazioni allora arrivano le nostre rigidità sentite forte questa energia di espansione che libera il vostro plesso solare dalle ansie dalle preoccupazioni e soprattutto amiche care dalla paura che dorme sopita nel nostro al centro del nostro corpo eliminando le paure della nostra vita la nostra vita può scorrere leggera in armonia e senza più tante preoccupazioni per cui io vi esorto amiche care a seguire questa energia blu di guarigione dell'arcangelo michele e cercate di sentire come questa energia penetri all'interno della vostra pancia e possa espellere qualsiasi energia non voluta qualsiasi energia di cui dobbiamo liberarci adesso inspirate ed espirate e sentite come questa meravigliosa energia blu che ci avvolge ci libera ci libera energeticamente da persone cose e situazioni ci libera dal giudizio nei confronti di altre persone e anche ci libera dall'essere giudicati da altri ci libera 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 Grazie a tutti. 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 soprattutto amore per voi stessi e abbracciatevi abbracciatevi come non avete mai fatto prima abbracciate la vostra vera essenza abbracciate il vostro corpo fisico che adesso scevro e adesso ripulito da tutte le energie di ganci che una volta erano agganciate alla vostra aura abbracciatevi 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 e sentite questo grande amore angelico che vi avvolge abbracciatevi e ringraziando l'arcangelo michele per questa meravigliosa meditazione che ci ha accompagnato questa sera con la sua spada di luce che ha tagliato tutte le energie di cui il nostro corpo non aveva più bisogno e ringraziando i nostri angeli custodi che hanno aperto il portale di luce blu ringraziamo il mondo spirituale per essere stato con noi e ringraziamo le vostre meravigliose anime che sono state con noi questa sera per ricevere la guarigione angelica inspirate profondamente ed espirando piano piano riaprite gli occhi e adesso grazie a tutti voi vorrei mentre ritornate qui sapere come è andata questa meditazione e che cosa avete sentito grazie a voi se c'è qualcuno che vuole condividere cosa ha sentito io sono molto contento di ascoltarvi e prima di disconnettervi vi prego di darmi un numero da uno a tre così io possa leggere i messaggi angelici che arrivano per voi questa sera bene grazie angelo grazie a te bene roberta il tuo cuore si stava liberando per questo è sentito dei forti dolori al petto e vedrai che più vai avanti più sentirai leggerezza quindi chiedo a tutte voi che siete collegate un numero da uno a tre lo so vedo che già state inviandoli così che io possa leggere i messaggi che gli angeli vi stanno donando ancora questa sera bene bene Antonello hai visto? perfetto grazie a te Patrizia bene lascia andare lascia andare chiedi ancora a Francesca all'arcangelo di venire in tuo soccorso bene bene quando avete sentito un dolore al petto vuol dire che avete state lasciando andare queste emozioni forti di persone che sono collegate a questa energia bene Gigi ciao bene bene perfetto bene Paolo bene 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 allora adesso io leggo le vostre carte e e quindi leggerò le carte che come sapete sono vengono estratte dalla mia delle mie carte dell'amore puro vediamo Barbara che cosa dice ho avuto lacrime tutto il tempo rilascio ho avuto le mani che mi allevano un calore e caldo in tutto il corpo io poi la Barbara Poggio aspetto una tua risposta positiva per quella cosa che ti ho chiesto oggi ok bene ci conto molto e adesso allora andiamo a leggere i messaggi ho visto che c'erano poche persone che hanno scelto il numero uno il numero uno è l'arcangelo Shamuel che questa è una delle carte più belle secondo me che dice spalanca il tuo cuore come una finestra fiorita allora molte persone hanno avuto questa pesantezza al loro cuore e quindi bisogna spalancare il cuore come una finestra fiorita dice l'arcangelo Shamuel vi ricordo che Shamuel è l'arcangelo che arriva è l'arcangelo del settimo chakra ma è anche l'arcangelo che è l'arcangelo dell'amore la carta numero due è Jofiel che dice benedici tutto ciò che arriva nella tua vita Jofiel e poi abbiamo la carta numero tre che molti di voi hanno scelto e dice ancora Jofiel la tua vera essenza non ha forma né tempo quindi come vedete sono tutte carte che vanno sul giallo e sull'arancione che hanno a che fare appunto con il terzo chakra che è il chakra del plesso solare e che è il chakra che è quello che ci dà più problematiche dove c'è la paura c'è l'ansia c'è la depressione c'è l'energia di non sentirsi mai a proprio agio nel proprio corpo e proprio dell'arcangelo Uriel parleremo venerdì mattina alle 11 perché sapete io sto facendo anche una meditazione per le persone che sono a casa che non lavorano e quindi venerdì alle 11 ci sarà questa meditazione venerdì 14 giugno alle 11 e domani vi aspetto invece con un gruppo di ospiti sempre con Sara Patron per parlare di Reiki ma anche di guarigione spirituale e mentre saremo in diretta invieremo Reiki a tutte le persone che sono collegate quindi incontriamoci ancora domani se vi fa piacere ovviamente alle 21 però in diretta qui su Bridges of Light grazie a tutte voi e buonanotte alla prossima Namaste